Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Prepariamo insieme una torta al caffè soffice e profumata. Trovate tutti gli ingredienti per questa ricetta alla fine del video. Verso 3 cucchiai di caffè sububile nell'acqua e continuo a mescolare fino a quando il caffè si sarà sciolto completamente. Metto da parte l'acqua e in una ciotola capiente verso le uova e comincio a mescolarle con una frusta. Sempre continuando a mescolare aggiungo un pizzico di sale e lo zucchero. Unisco anche l'olio di semi. Verso la farina di riso e il lievito e li amalgamo per bene il composto. Ora incorporo anche il caffè e per ultima la farina. Verso l'impasto in una tortiera da 20 cm poderata con carta forno e lo cuocio a 170 gradi per circa 35 minuti in forno ventilato. Quando la torta è pronta la lascio raffreddare, la sformo e poi la trasferisco su un piatto. A piacere possiamo spolverare la superficie con abbondante zucchero a velo. Questa deliziosa torta al caffè è pronta per essere gustata. Se questo video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace e subito al mio canale. Mi trovi anche su Instagram come EasyChef. Ciao! 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 Grazie.